Sappiate che c'è il tema dell'insegnante, c'è se, ed è il tema che ogni giorno per i nostri genitori sarà come un giorno di sciopero, traduco, se quell'insegnante è ammalato e se ne accorge solo mezz'ora prima perché si misura la febbre e sarà oltre i 37 e mezzo e non c'è un sufficiente numero di insegnanti a sostituirlo, quella classe purtroppo torna a casa e questa è la vera preoccupazione delle famiglie. Che ci sarà una scuola a singhiozzo, questo è l'incubo, no? Questa è la vera preoccupazione, no? Perché poi una volta entrati, una volta suddivisi classe per classe, noi abbiamo immaginato per esempio che entrino in maniera quindi tre classi e quelle tre classi saranno quelle che conviveranno sia nell'ingresso sia nell'uscita dall'istituto e avranno uno spazio dedicato del giardino, di modo che se ci sarà un positivo si andrà in cerca poi di, in qualche modo, dei contatti all'interno solo di questo numero esiguo di classe e non di tutto l'istituto, quindi mantenere questa divisione delle persone all'interno dell'istituto. Exatamente.